Visita della campionessa di triathlon Verena Steinhauser, quest'oggi presso il Centro Sportivo Universo di Silvi Marina, dove è stato attivato un corso dal titolo nuoto bici-corsa per ragazzi e ragazze dagli 8 ai 18 anni. Sono venuta io stessa ad allenarmi e posso proprio dire che è ottimale sia la piscina che la struttura, che la palestra e tutto. Senza spostarsi più di tanto ci si può allenare in tutte e tra le discipline. Il triathlon classico, quello cosiddetto olimpico, si disputa sui 1500 metri a nuoto, sui 40 chilometri in bicicletta e sui 10 chilometri di corsa, ma tuttavia sono numerose le varianti delle distanze a seconda dell'età e delle caratteristiche tecniche. Il triathlon penso che potrebbe essere lo sport del futuro, specialmente per bambini e ragazzi, perché è completo e ti insegna a nuotare, la bici e la corsa completano il tutto. Il triathlon non è l'Ironman, specialmente per i bambini, parliamo di distanze molto più corte e deve essere un divertimento, soprattutto all'età giovanile, quindi spero che vengano sempre più bambini e ragazzi a provare. Alto a tesina di nascita, ma abruzzese di adozione, la Stenhauser è stata protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2020, facendo registrare l'ottavo posto nella staffetta mista, ma nel suo palmarès può vantare sette podi in Coppa del Mondo. Mi porto tanta voglia di crescere e di fare meglio, questa è stata la prima e adesso ovviamente la prossima Parigi 2024 sarà il prossimo grande obiettivo, dove non voglio andare a partecipare ma divertirmi un po' di più. Presente anche il tecnico della Nazionale Italiana di Triathlon, Simone Mantolini, il quale non esclude uno stage di allenamenti proprio all'interno del centro sportivo. Magari sì, è un posto ideale per fare diciamo allenamento e raduni, vista comunque la struttura che è veramente predisposta e diciamo anche l'esterno, quindi il mare vicino per fare nuoto in acqua libera oltre al mare in piscina e per correre perché c'è la pineta proprio di fronte alla struttura e per andare in bici perché abbiamo diciamo oltre alla pianura c'è la collina, la montagna in un istante, quindi diciamo è proprio il posto ideale e oltre al clima che tutto l'anno diciamo è abbastanza mite per allenarsi.